Buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qui, grazie ai colleghi, grazie a Coramidia per averci aiutato a fare questa tappa del centenario, i cent'anni del bacio, grazie a chi è venuto anche delle autorità, ringrazio Filippo Gallinella, l'onorevole che devo dire che ci siamo visti un po' di tempo alla Camera quando gli ho detto, guarda queste saranno le prossime tappe, voglio esserci, provamotemi un posto e meno male visto che ci hanno un po' lasciato fuori, ringrazio il vice sindaco Tuteri di essere qua con noi e di portare anche i saluti della città, non so se il vice sindaco vuol dire qualche parola, se vuole Sono la parte noiosa dell'evento, i saluti, però è doveroso farli ma dico la verità da Perugino è sentito, mi hanno lasciato un elenco di persone da ringraziare che francamente farei sicuramente qualche errore a ricordarmeli, per cui ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento e di questo podcast. Sì, il bacio è un cult, quindi un bene mondiale, ma noi lo sentiamo un bene nostro, un bene cittadino, fa parte della peruginità, fa parte della peruginità perché quello che ha prodotto nella nostra collettività è ancora ne apprezziamo i frutti perché all'epoca quando Luisa Spagnoli ebbe questa intuizione realizzò un benessere che all'epoca nella nostra collettività non c'era e oggi ancora la maggior parte della nostra comunità ha sicuramente, se non ora, ma nel passato ha avuto un membro della propria famiglia che ha lavorato all'interno di quelle che sono state le aziende che questa perugina, non proprio perugina, ma illuminata ha realizzato, la perugina appunto e la Luisa Spagnoli che nasce sempre per un'intuizione di questa donna che utilizzò questa angora, questa lana del coniglio, inizialmente sempre a supporto della produzione dei baci perugina e poi è diventata un prodotto che tuttora è di grande successo, quindi per noi è un bene cittadino e lo proteggiamo davvero col cuore. Grazie. Grazie Vincenzi, e infatti per noi ce l'abbiamo un po' in prestito, io sono la responsabile della comunicazione del gruppo Nestlé, ma ce lo sentiamo sempre un pochino in prestito, infatti siamo qui proprio perché vogliamo rendere omaggio alla città, non sarà finita qui però poi faremo anche altre cose, nel pensare all'attività da fare abbiamo pensato come lo raccontiamo questa storia in modo che rimanga e abbiamo pensato, visto che vi devo dire un po' di anni fa, sono inciampata per caso nel mio primo podcast che era un podcast pubblicato da Repubblica che si chiamava Veleno, io inizio dalla prima puntata e poi ero lì a dire quando è la prossima, quando è la prossima e mi sono resa conto dell'intimità che il podcast aveva, quindi pensando a qualcosa che potesse rimanere, che trasmettesse questa intimità e questa storia oggi, nel cent'anni ma anche negli anni a venire, abbiamo realizzato questa cosa che viene presentata oggi con Cora Media, quindi passo la parola a Mario Calabrese, grande fan dei Baci Perugina, faccio lo spot, per la presentazione, grazie a tutti. Grazie, grazie Emanuela e grazie a tutti. Cent'anni di Baci Perugina, si è scelto insieme alla Perugina, insieme a tutti voi, insieme a Emanuela di raccontarlo in un modo diverso, facendo un viaggio nella storia dei Baci, facendo un viaggio in che cosa significa baciarsi, attualizzando che cos'è il bacio oggi e che cos'è stato in questo secolo. Lo abbiamo fatto in questo podcast che è in quattro puntate e con l'idea proprio di immergerci nel racconto con una voce credibile di uno scrittore, di un giornalista che è Paolo Di Paolo, tra l'altro Paolo è un giornalista molto attento ai temi del presente, della quotidianità, ma con tutte queste incursioni nel passato, io penso a tanti tuoi libri, il libro su Indro Montanelli che era uno spaccato di società italiana fenomenale, non raccontavi soltanto un giornalista, ogni volta tu vai a raccontare che cosa c'è intorno e così hai fatto anche questo lavoro, sia raccontando la storia dei Baci, raccontando la storia di come è cambiato l'amore, perché qui parliamo non soltanto dell'amore passionale o dell'amore romantico, ma parliamo dell'amore familiare, del bacio tra gli amici e quindi hai fatto questa divulgazione, hai fatto un viaggio in cui hai delle persone con cui ti incontri, per esempio sei partito sostanzialmente col viaggio a ritroso, perché sei partito con Chiara Gamberale, che è una che indaga e si interroga continuamente sulle forme dell'amore, delle coppie, delle famiglie, anche quelle che erano inimmaginabili, in una serie podcast che ha fatto anche lei, una delle puntate era su una famiglia, tra virgolette sui generis, perché erano le persone che vivevano nella canonica con un sacerdote che aveva accolto persone diverse e quindi lei diceva anche quella era in un certo senso una famiglia e allora il modo in cui tu lo racconti è questo. Qui con noi ci sono Elisabetta Moro e Marino Niola, loro sono professoresse e professori di due materie simili ma poi leggermente diverse, insegnano tutte e due all'università di Napoli, la sua rorsola ben in casa, lei insegna antropologia culturale e invece Marino, che mi sono onorato per tanti anni di avere come collaboratore quando ero a Repubblica, è professore di antropologia del contemporaneo. Loro due hanno scritto insieme un libro per Einaudi che si chiama baciarsi, quindi diciamo erano anche due persone ideali con cui fare questo viaggio. Insieme a noi c'è la responsabile del museo perugina che è Maria Cristina Mencaroni. Allora noi oggi vogliamo fare un po' un viaggio con loro facendovi sentire anche dei brevi estratti da tre puntate del podcast. Tra l'altro le quattro puntate sono disponibili su tutte le piattaforme, fruibili gratuitamente, quindi da Spotify a Apple a Google, sono ovunque disponibili e sostanzialmente la serie che si chiama baci su baci è una storia del costume italiano attraverso questo secolo di storia dei baci. È un po' un'indagine sul gesto di baciarsi e la cosa che a me ha affascinato di più, che Paolo è riuscito a cucire, che è una serie piena di richiami, rievocazioni, ricordi. Per chiunque, qualunque età abbia, ci sono dei pezzi che riaccendono, come avrebbe detto quel signore Proust, le famose Madeleine, che riaccendono dei pezzi dell'immaginazione, dei nostri ricordi, tubiamo i vari momenti delle nostre vite e della nostra storia. Allora io partirei però sentendo il primo degli estratti, in questo caso dalla prima puntata della serie podcast. In un'ideale cronologia universale e personale insieme, i baci potrebbero funzionare da Madeleine. Le nostre vicende personali, baci veri e sognati, amicizie, amori, pensieri gentili, offerti e ricevuti. Anche la storia del nostro paese, l'evoluzione dei costumi, il cambiamento. È così il cambiamento, perché il modo in cui parliamo d'amore cambia. Nelle pubblicità, per l'appunto, nelle canzoni, grazie dei fiori, non è brividi. È nei film, è nei libri, nella nostra quotidianità. Come cambiano ed evolvono anche le storie d'amore, pur restando vive nei ricordi delle persone che le hanno vissute o nelle parole di chi le ha tramandate. Un po' come è accaduto per la passione che ha dato il via a questa storia di baci e di biglietti amorosi, quella tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, che nel 1907 aprirono un laboratorio nel centro storico di Perugia, da cui poi prese vita la Perugina. Partiamo dagli amori e dai baci di oggi, per tornare indietro a quelli di ieri e di cento, mille, anche duemila anni fa. Scopriremo che non c'è mai stato, né mai ci sarà un bacio uguale a un altro, anche se ogni giorno ne vengono scambiati milioni. Scopriremo anche che quando si tratta di baci Perugina non esiste solo l'amore romantico. I baci vanno d'accordo con tutto, con la passione, con l'amicizia, con il trasporto verso il bello, verso la cultura, con l'amore che lega i genitori ai figli, i nipoti ai nonni, fratelli, alle sorelle, con l'affetto totalizzante che si respira dentro le famiglie d'elezione. Tanto ascoltarlo mi fa anche ringraziare tra gli altri Sara Poma, che è la responsabile di tutta la parte dei podcast branded di Cora, che secondo me è una delle persone, se non la persona più capace che ci sia in Italia a costruire serie podcast, quindi complimenti Sara. Prima di arrivare a te Paolo, però io vorrei chiedere a Elisabetta una cosa che va un pochino più indietro dei cento anni della storia del bacio, cioè dal punto di vista dell'etologia, cioè i baci, come nascono? Cosa sono? Lo si è mai capito? Allora, intanto ti ringrazio Mario per averci, per avermi e per averci invitato qui a Perugia, città che amiamo, anche per i baci e soprattutto per il podcast. In realtà i baci non li abbiamo inventati noi, questa è la cosa che più ci ha sconvolto scrivendo questo libro, li hanno inventati le scimmie, i primati, quindi possiamo pensare qualche milione di anni fa, non cento anni fa, cento anni fa nasceva il bacio più famoso del mondo, ma le scimmie hanno in realtà inventato questo modo di collegare la bocca della madre con la bocca del figlio, perché? Perché in realtà bisognava dare da mangiare ai piccoli scimpanze e quindi le madri premasticavano il cibo e lo passavano di bocca in bocca, come fanno anche a volte gli uccellini, però siccome le scimmie hanno le labbra, le labbra sono molto più avvincenti quando ci si avvicina e quindi a un certo punto in un qualche momento che non sappiamo della storia evolutiva, le madri hanno capito che avvicinando la bocca, anche senza passare qualcosa, le labbra del piccolo ricepivano qualcos'altro, cioè un messaggio, una passione, un desiderio, attivavano qualcosa, un grande piacere e quindi da lì è cominciato lo scambio dei baci e le scimmie di fatto poi hanno trasformato questa pratica assieme a noi umani in una cosa simbolica, quindi non ci si bacia solo per passare il cibo, ma ci si bacia per passare tantissime altre cose, soprattutto messaggi, comunicazione, sentimenti, passioni e le scimmie però sono impressionanti perché non si sono limitate appunto solo alla funzione nutritiva, hanno cominciato a nutrirsi di sentimento attraverso la bocca e quello che è impressionante è che i bonobo, che sono le scimmie che più ci somigliano, si baciano in continuazione, ma si baciano anche con baci omosessuali, le femmine soprattutto adorano baciarsi fra loro perché prima fanno lunghe conversazioni come facciamo noi umane e dopodiché cominciano a sbacciucchiarsi, dopodiché vanno anche oltre, ma insomma forse non è il tema di oggi, però è l'inizio di una relazione e quindi in realtà noi abbiamo assunto questo gesto che non è umano e lo abbiamo però fatto diventare profondamente umano, così profondamente che appena ci siamo messi la mascherina, appena sono cominciati i dpcm che ci dicevano che dovevamo stare lontani, la prima vittima dei nostri comportamenti provocata dal covid è stato proprio il bacio, il primo gesto che noi abbiamo dovuto limitare tantissimo. Forse ricorderete che due Pasque fa il Presidente del Consiglio disquisiva se parenti, affini, conviventi, amanti, fidanzati potessero incontrarsi oppure no, perché la questione qual era? Si sarebbero scambiati baci e bacilli e questa è la verità scientifica del bacio, evolutivamente il bacio serve proprio a questo, a scambiare baci e bacilli perché nel momento in cui noi ci baciamo con qualcun altro scambiamo in 10 secondi 80 milioni di batteri, non so se vi piace l'idea però è così, è così e comunque è utilissimo, infatti è un trucco dell'evoluzione, il piacere che noi abbiamo dalle labbra è un trucco dell'evoluzione fatto apposta per spingerci a baciare il più possibile, più noi baciamo, più scambiamo batteri e più il nostro sistema immunitario diventa forte, quindi in realtà oggi sappiamo da grandi studi che dovremmo baciarci almeno 9 volte al giorno. E anche mangiare 9 baci? Beh certo direi anche 10 forse, 10 baci per ruggine. Allora con Marino ci siamo detti, beh insomma la storia della salute umana è partita con una mela al giorno, vi ricordate? Poi 3 noci al giorno, poi 9 baci al giorno e citando Totò noi diciamo dove andremo a finire di questo passo perché qualcosa sta crescendo e comunque questa è la grande ragione per cui ci piace baciare. Meraviglioso, ci hai aperto e illuminato un mondo. Paolo, come tu tra l'altro usi un po' un trucco che nei momenti chiave delle puntate scarti un bacio e giochi anche con il rumore dell'incartamento della carta, giochi con quello. Quali sono? Come hai cucito insieme questo viaggio? Ma un po' quello che dicevi, abbiamo tentato di capire come il bacio perugina fosse entrato nelle vite di tutti in questo secolo, quindi effettivamente tutti i viventi e coscienti in Italia hanno memoria e non solo in Italia hanno memoria di aver almeno ricevuto, condiviso, scartato un bacio. Mi è venuta questa idea che ho condiviso subito con Sara di usiamo il cartiglio perché è ovvio che il cartiglio è ciò che lo rende così specifico, così diverso da altri prodotti di quel genere e quindi questo cartiglio che porta delle parole. E allora da un certo punto di vista il legame era proprio questo, già stabilito nei fatti dal gesto di scartare un bacio e leggere. Bacio, come diceva anche Elisabetta, come forma di comunicazione preverbale e poi intanto tutte le parole che stanno intorno a questo gesto così semplice, così intimo e però pure così complesso perché l'espressione stessa primo bacio ci piomba anche nell'esitazione, nella timidezza, non è che baciare sia sempre facile, no? Ecco, allora questa stagione ci ha reso difficili i baci, li abbiamo rimpianti, però esiste nella testa di ciascuno anche un film, magari anche poi Marino e Elisabetta ci torneranno, un film della nostra vita con le scene tagliate come il nuovo Cinema Paradiso, dei baci che abbiamo dato, di quelli che non abbiamo dato. E quindi abbiamo pensato in queste quattro puntate di muoverci proprio su due assi. L'asse della storia dei baci perugina, l'asse della nostra storia. Io nella clip che si è sentita parlavo di cronologia universal personale, che è un gioco che ho fatto, un romanzo appunto di un po' di anni fa che si chiamava Dove eravate tutti, dove tiravo una linea del tempo che cominciava con la nascita del personaggio e andava avanti fino alla sua età adulta e mettevo i fatti della vita del mondo nella parte sopra, i fatti della sua vita nella parte sotto. E mi chiedevo che relazione c'è tra i fatti della vita del mondo e la nostra vita sentimentale e affettiva. Ecco, il gioco è stato un po' questo, attivato anche nei cortocircuiti emotivi proprio dal ricordo di pubblicità, di jingle, appunto tu dicevi tubiamo, ma sono tanti i momenti in cui anche soltanto, e questo nel podcast sarà molto divertente, viene fuori qualcosa della nostra stagione precisa, della nostra adolescenza, della nostra tarda giovinezza, della nostra età adulta, le pubblicità di Natale, cioè evidentemente si è costruito una sorta di immaginario, questo immaginario è stato popolato dalle storie che anche questo oggetto in qualche modo ha prodotto. Io come ultima cosa posso dirti che mi sono molto divertito non solo appunto a cercare dettagli, perché abbiamo ripercorso in lungo e largo la storia anche con l'aiuto di Maria Cristina, abbiamo visto il museo, insomma erano tantissime cose che tiravano dentro da D'Annunzio appunto a Luisa Spagnoli, incrociavano parolieri, poeti, artistiche di volta, Vittorio Gasman, Frank Sinatra, che hanno prestato il loro volto ai baci. Parallelamente mi servivano però degli esperti appunto e quindi gli antropologi sicuramente erano fondamentali, c'è una grecista che è Eva Cantarella, una grande classicista che addirittura ci rimanda alle radici più classiche, Osculum, anche Marino e Elisabetta ne parlano alle nominazioni del bacio e poi una scrittrice che fa più o meno quel mestiere e ha cercato di sondare invece i sentimenti e di vedere che cosa vuol dire baciarsi nel ventunesimo secolo. Ti voglio chiedere una cosa, sembra una domanda strana che faccio a tutti, ma voi quando scartate un bacio, quando leggete il cartiglio? Perché per esempio io devo fare le due cose rigorosamente separate, cioè io prima, perché se penso che se faccio, non ne faccio bene a nessuno le due. Io per esempio prima mangio il cioccolatino, quando è completamente finito, solo a quel punto, negli anni poi ho iniziato leggendolo qua, adesso lo leggo qua, lo leggo. Allora volevo chiedere a voi, voi cosa fate? Perché ci sono tante scuole di pensiero. Marino? Io faccio come te Mario, anche perché l'amore è una questione di lentezza, queste cose, e i preliminari sono fondamentali, come mi insegnate. E quindi prima mangio e poi spiano il cartiglio, perché spesso va stirato, poi lo leggo qualche volta contro luce, dipende dalla luce che c'è e quasi sempre sono molto contento, perché poi le frasi sono belle, a cominciare da quella più celebre di tutte, che il bacio è un apostrofo rosa fra le parole tamo. Il fatto sta che il bacio perugina in particolare è veramente la madeleine dell'immaginario erotico degli italiani, perché è quella la nostra madeleine, perché la dolcezza che è una qualità fisica e una qualità gustativa diventa anche la dolcezza dell'amore, la dolcezza in generale. E quindi non a caso i dolci baci e languide, forse la perugina dovrebbe fare anche le languide carezze dopo i dolci baci. Però effettivamente il bacio parla sempre di noi, in qualche modo, perché è il gesto più universale che esista. Però la tua domanda era quella e mi fermo. Per te Paolo? No, io invece sono quello che legge subito, perché voglio vedere se l'ho già letta, se l'ho già incontrata, quindi c'è come una specie di messa a verifica di quanto sia nuova o non nuova e di che reazione in quel momento ti suscita, quindi prima del cioccolatino, quella parola. Quindi in te vince l'intellettuale sul goloso. Vinci sempre l'intellettuale sul goloso, sì, ancora per ora sì. E invece Maria Cristina? La tua risposta vale doppio, perché tu sei più istituzionale, essendo custode del tempio, diciamo che... Sì, sì, nasce anche dall'osservazione. In realtà il rituale inizia molto prima, inizia dall'alluminio, quindi dal cielo stellato, anche quello in qualche maniera, contribuisce a quello scrigno che poi arriva al cuore, che è il prodotto, ma soprattutto la frase. E le persone effettivamente... C'è addirittura un'interpretazione psicologica tra chi tende l'alluminio, tra chi tende il cartiglio, tra chi lo ha avvolto. Certamente tanti lo conservano e c'è quel momento in cui leggendolo ci si riconosce. È vero, è così. Quindi che sia una massima o che sia invece una frase d'amore, c'è sempre questa identità che viene fuori. E noi a distanza di anni ancora riceviamo messaggi di persone che magari, l'ultimo, per 60 anni, hanno conservato un cartiglio, che era quello del bacio, della scatola di baci regalata dal primo fidanzato. Questo è chiaramente un gesto d'amore anche verso questo mondo, questa storia che ancora oggi, questo è l'aspetto straordinario, continua a suscitare emozioni. Tu hai aperto poi un'altra cosa che potremmo andare avanti su appunto che cosa si fa con la stagnola, con l'incarto, perché c'è chi la cartoccia, chi ne fa, io per esempio una pallina ma deve essere molto liscia, deve girare tanto, deve essere molto liscia, chi ne fa un rotolino? Io avevo un collega alla stampa che tutte le riunioni faceva il rotolino, non so perché aveva sempre i baci, faceva i rotolini e ogni fine di riunione c'erano questi rotolini sul tavolo della riunione, hai capito di chi sto parlando, oppure c'è chi li stira invece, non so per farne che cosa li stiri, se pensa di riutilizzarli oppure se voi avete un programma di restituisci e poi ogni 10 ottieni un bacio gratis, non so se esiste una politica di questo tipo. Tu invece cosa fai? Allora io apro la stagnola con un'attenzione massima perché non la voglio rompere, devo iniziare tutto così, poi do due morsetti al bacio, non in uno solo a buccone, anche quando sono usciti i bacetti facevo la stessa cosa, sempre due morsetti, la nocciola dopo alla fine, il dulcis in fundo e poi spianavo tutto, compreso il bigliettino con il messaggio, a volte usando anche una big, perché fa un effetto flatting che mi piace moltissimo e ovviamente conservo i messaggi. Ecco, tutto questo è divertente perché non è preparato, cioè loro, non gli ho detto che avremmo discusso di queste cose, ma Marino volevo un attimo una cosa, visto che tu hai in mano il tuo libro e hai ripercorso temi che fanno parte del vostro libro, che ci racconti un attimo la storia del bacio in senso più universale, lei ci ha dato la partenza antropologica, invece che cos'è il bacio nella nostra civiltà? Il bacio è, come diceva Elisabetta, è un gesto di nutrizione che diventa un gesto di passione e in questo passaggio c'è forse tutta la storia del bacio, poi un gesto di passione che quindi diventa tutte le gambe possibili della passione, la passione amorosa, quella affettiva, perché il bacio, se voi ci pensate, è sempre lo stesso gesto, è uno schiocco di labbra, però quel gesto assume i significati più diversi appunto, che sono di passione, seduzione, sottomissione, perfino tradimento. Pensate, uno dei baci più famosi della storia, il bacio di Giuda, non è un bacio d'amore né di passione, ma è un bacio di tradimento, è il simbolo del tradimento e quindi quel gesto ha mille significati diversi. Noi chiamiamo tutto con una sola parola, altre civiltà invece, prima di noi, i latini, i greci usavano più parole, perché loro sapevano che dire bacio non basta, tant'è vero che i latini usavano basium, da cui il nostro bacio, osculum, che era il bacetto che si dà ai bambini, il bacio affettuoso, e il savium, che era il bacio di passione forte, quello con la lingua, quello che, come dice Isidoro di Sviglia, che era un bacchettone come tutti i padri della chiesa, si dà alle prostitute, non è vero? non è il bacio alla francese, quindi c'è dentro di tutto, c'è dentro appunto l'affetto, c'è perfino la religione, i primi cristiani si dovevano baciare necessariamente, perché altrimenti non si era cristiani, la partecipazione alla messa non era veramente compiuta se non ci si dava un bacio sulla bocca, lo scrive San Paolo, salutatevi con il bacio di pace, quello che noi adesso facciamo, c'è rimasto quel tocco fuggevole, quando ci scambiamo il segno di pace, che appena ci sfioriamo, ma invece era un contatto forte, senza il quale non si poteva essere uniti, e neanche fratelli in Cristo, il che vuol dire che il bacio è proprio questo, è una sorta di cortocircuito che produce unione. Grazie, sentirei il secondo estratto dal podcast, dovrebbe essere dalla seconda puntata. Con un tubo e un bacio, puoi dire tutto! Cera, ricorderà di sicuro, il cuore degli anni Ottanta, un decennio che dopo una stagione turbolenta e cupa sembra votato alla spensieratezza, è un'illusione? Chissà, di sicuro è un periodo che a posteriori ha generato una grande nostalgia. Un benessere diffuso, la sensazione di andare incontro a occasioni di rinnovamento, di trasformazione, a una vita in cui anche il relax e il divertimento hanno il loro posto. Discoteche, villaggi vacanze, una sorta di interminabile estate, bella e luminosa, come quella del 1982, quando l'Italia vince i mondiali di scambio. Dubiamo, dice giocosamente la pubblicità dei baci perugina, è in jeans bianchi e t-shirt. Un gruppo di ragazzi sorride al ritmo del jingle che evoca la particolare confezione, il famosissimo tubo. Un modo per giocare con le parole, il tubare entra nel linguaggio comune proprio grazie alla pubblicità dei baci e per rivolgersi a un pubblico più giovane. È una piccola rivoluzione comunicativa che negli anni Ottanta ha una sequenza fittissima di tappe televisive e di jingle inventivi, destinati a fissarsi nella memoria collettiva. Beh, bellissimo, quella roba lì fa subito venire una gran nostalgia, almeno per chi, diciamo, ha più di 25 anni, qui dentro due o tre hanno più di 25 anni. Paolo, che cosa sono? Tanto quanto è rimasto di quell'immaginario? E avendo fatto tu questo viaggio, prima abbiamo trovato Gasman, poi parleremo, quanto di questi pezzi secondo te hanno segnato e restano? E raccontaci un po' anche che cosa significano per te. Ma forse è proprio stata, in realtà, guarda, anche una scoperta, non tutte le pubblicità me le ricordavo direttamente, però mi sono reso conto che facendo una ricerca anche molto banale, se volete, su YouTube, in internet in generale, c'erano persone che da sole, ho trovato un video lunghissimo fatto da una persona, che aveva da sola sequenziato tutti gli spot più famosi dei Baci Perugina. E la quantità di commenti mi ha sconvolto, di persone dicono, ah sì, quello me lo ricordo, tubiamo, oppure chi ama Baci, oppure appunto quella natalizia della bambina che destina i Baci a chi si è comportato meglio. Allora ho capito che effettivamente alcuni prodotti diventano qualcosa di più, anche in forza della creatività di chi di volta in volta ovviamente si è applicato a quel prodotto, perché bisogna pure riconoscere, anche se non possiamo nominalmente evocarli, che ci sono stati dei pubblicitari di grandissima forza, di grandissima intelligenza, perché per fare questo che è successo adesso, che uno sente, tubiamo, e si ricorda qualcosa se c'era, beh evidentemente è successo questo meccanismo misterioso per cui una pubblicità è diventata un sottofondo della tua vita, e succede non sempre evidentemente. Poi il punto interessante è che proprio perché i Baci hanno avuto grandi testimonial, spesso queste loro fisionomie, Gassman che gioca preoccupandosi di fare la pubblicità, appunto dicevo Frank Sinatra, volti anche naturalmente meno popolari, però sono entrati dentro un disegno, ti direi questo, di narrativa, cioè come se queste non fossero solo pubblicità ma fossero dei racconti, e questo sta secondo me ancora già nell'intuizione che presiede pure alla nascita del cartiglio, perché se ci pensiamo, l'idea che tu hai un cioccolatino, e questa è un'intuizione che appunto si deve a Buitoni e Spagnoli, quindi proprio ai primordi, l'idea che tu hai un cioccolatino, il cioccolatino lo consumi ma restano delle parole, questo tipo di pubblicità è come se avessero una gittata più larga del consumo dell'oggetto, non voglio esagerare in sovrastrutture o nobilitazioni, però è davvero successo un po' questo, al punto che, questo non lo sapevo, alcuni spot, in particolare questa stagione felicissima degli anni Ottanta, hanno avuto una tale fortuna che sono stati riproposti anche in epoche molto più vicine a noi, come se non avessero perso, cosa che invece spesso succede alla pubblicità, la loro capacità evocativa. A chiedere a Elisabetta una cosa, tu hai citato per esempio il significato dei baci nei latini, se recuperiamo un attimo l'etimologia della parola. Sì, i latini usavano tre parole, in effetti quella che usavano più spesso era basium, la più generica, che viene però dal greco, baskaino, che significa sussurrare, di fatto in moltissime culture non ci si bacia toccandosi le labbra ma sussurrandosi sulle guance o vicino al naso, quindi questo è il gesto, diciamo l'avvicinamento è il grande tema, quindi da questa parola baskaino viene basium, che è appunto la parola che noi, diciamo, lingua romanza italiana abbiamo preso dai latini, ma i latini usavano moltissimo osculum, osculum era il bacio che si dava ai bambini, il bacio d'affetto, e questa parola è rimasta nell'italiano, ma solo in matematica, le rette si possono osculare quando si incrociano e si baciano, ed è interessante, quindi è un tema solo rimasto matematicamente dentro il nostro linguaggio. Poi invece c'è l'altra parola, savium, da suavium, quindi il bacio di seduzione, dove c'è appunto la suavità, il sospiro dell'altro, come diceva un grande poeta, tra le labbra degli amanti si incontrano due anime, quindi è il savium, non a caso l'anima nell'antichità era la psicae, cioè era qualcosa di impalpabile, il soffio, e quindi il basium, l'osculum e il savium raccontano tutto questo, ma c'è un altro termine che ci ha molto incuriosito, perché pensavamo che il bacio alla francese l'avessero inventato i francesi, invece non è così, i greci già lo usavano questo termine e soprattutto praticavano questo termine. E come lo chiamavano loro? Cataglottisma, cioè il bacio di lingua, c'è una pagina meravigliosa di Aristofane, nella grande opera Le nuvole, in cui improvvisamente c'è un contadino, un pastore ricco, che racconta di aver sposato una giovane donna bellissima di città però, e racconta la loro prima notte di nozze. E durante questa notte lui dice, io davo di mosto, aveva alzato il gomito, ero vestito di lana, insomma ero grossolano. Lei invece era bellissima, elegantissima e dava di lingua. E quindi il cataglottisma è un bacio di grandissima seduzione, che appunto solo le donne raffinate nel mondo classico sapevano dare. Meraviglioso. Io farei una cosa, sentirei, no, prima di sentire il nuovo estratto, avete citato Vittorio Gasman più volte, allora mi fa venire in mente il cinema. E allora c'è anche un tema del bacio sullo schermo, del bacio nel cinema, con un tema anche di censura del bacio. Marino su questo tu lo racconti anche in una, mi pare, nella terza puntata del podcast. Esatto, sì, c'era, intanto il cinema senza baci non sarebbe il cinema, è la vera e propria fabbrica del bacio. Il cinema comincia con un bacio, già nel 1895, Thomas Edison, l'inventore della lampadina, produce un cortissimo, dura poco più di un minuto, che si chiama The Kiss, ed è un bacio interminabile, è tutto lì. E il New York Times scrive, se questo è il cinema è meglio che muoia subito, per la sua immoralità, poi non ci ha preso per fortuna. Però negli anni venti, dagli anni venti fino agli anni sessanta, pensate per quarant'anni, negli Stati Uniti, i baci erano sottoposti a censura. C'era un disciplinare, il cosiddetto codice Hays, dal senatore che l'aveva proposto, che stabiliva che un bacio non potesse durare più di tre secondi. Voi immaginatevi, tre secondi di bacio. Eppure la storia del cinema ci ha lasciato dei baci memorabili, come quelli di Hitchcock, in Notorious, per esempio, dura più di tre minuti. Come fa Hitchcock, che per non incorrere nel codice Hays, dice a Cary Grant e Ingrid Bergman, datevi un bacio di tre secondi, poi allontanatevi un po', sussurratevi qualcosa vicinissimo, poi altri tre secondi e così via. Con questo tira e molla riesce a tirare tre minuti e quaranta secondi. Il bacio più lungo della storia del cinema. Un bacio che poi diventa un paradigma anche per Woody Allen, che quando in prova c'è ancora Sam, misura la sua capacità seduttiva proprio su quello. E poi prima ricordava Paolo anche quella scena finale, la sequenza finale commovente di Nuovo Cinema Paradiso, quando il protagonista rivede, ripercorre la sua vita come in Moviola proprio alla luce dei baci più famosi della storia del cinema. Baci censurati anche in quel caso lì. Paolo, tu hai anche fatto un viaggio nei cartigli, nelle frasi, nella scelta delle cose. Ci racconti anche questo? Sì, anche lì c'è stata un'evoluzione. Ci sono gli intramontabili, per quello dicevo che può capitare più volte nella vita necessariamente, soprattutto se si frequentano molto i baci, di ritrovare le stesse frasi, da Baudelaire a Prevert, è ovvio che ci sono i classici intramontabili. Però l'intelligenza di chi poi ha lavorato con i baci nei decenni è stata proprio quella di aggiornare il lessico sentimentale, la proposta delle frasi nei cartigli. Spesso, cosa che è stata frequente negli ultimi anni, chiedendo anche delle frasi inedite a cantautori, a scrittori, scrittrici. E questo mi ha molto divertito, perché dialogando appunto con Marino, con Elisabetta, con Eva Cantarella, con Chiara Gamberale, per esempio con la Gamberale facciamo proprio questo gioco all'inizio di scartare i baci e di vedere che succede. E se uno li prende anche sul personale un po' a volte, per cui quella giornata ti vuoi sentire dire qualcosa sulla tua vicenda in quel momento amorosa. Infatti lì, che è tipico di Chiara Gamberale, che è scrittrice, che guarda gli uccelli nel cielo per capire come andrà la giornata, eccetera, eccetera, lei dice se io ho una domanda, anziché andare dai tarocchi o dai cine, eccetera, eccetera, vedo scartum bacio e vedo se c'è una risposta lì che mi sta rispondendo alla domanda che mi sono fatta. Però poi vedevo anche che noi qualcosa l'abbiamo tagliata, evidentemente. Vedevo che lei poi voleva comunque il cartiglio giusto, quello che le dicesse la cosa. E quindi continuava a scartare, finché non trovava quello che le dava ragione. Così, abbiamo scartato cinque baci fino a che ha detto ma adesso Chiara ti va bene questo? Perché sembrava sempre che la risposta non andava bene. Quindi diciamo questo l'abbiamo un po' così accorciato. Però è divertente, ci dice qualcosa anche di questo, di come quelle parole portano con sé o un modo così classico, così trasparente, così inscalfibile, Baudelaire come Prevert, ci dicono qualcosa che non riusciamo a sentire deperibile, oppure c'è tutto un racconto che ha bisogno appunto dell'innervamento della contemporaneità. Cioè hai bisogno di capire, e questa è una domanda che a Chiara ho fatto proprio esplicitamente visto che si interessa ai sentimenti, è cambiato il modo di parlare d'amore? Certo che è cambiato, ma che parole usiamo? Che metafore usiamo? E soprattutto quello che poi ci siamo tante volte ripetuti e che tu stessi detto all'inizio, non è che poi i cartigli parlano solo dell'amore inteso come appunto amore tra due persone innamorate, parlano di affetto, parlano di rapporto tra persone, mi verrebbe da dire, anzi ancora più giusto sarebbe tra esseri umani, esseri umani, esseri umani che hanno bisogno, oltre che dei baci, delle parole per dirsi cosa provano. E questo in tutte le direzioni possibili, in tutte le sfumature possibili. È chiaro che lo sguardo di un contemporaneo, di un autore contemporaneo, un cantante, anche successo con alcuni cantautori o cantautrici, ti aiuta proprio a rinnovare quel linguaggio, e a vedere come questa dimensione dell'affetto e dell'amore è moltiplicabile all'infinito per ogni singola identità o coppia o diciamo unione, perché può essere anche un bacio di famiglia, può essere un bacio tra nonno e nipote, può essere tutte le declinazioni possibili ed effettivamente hai bisogno di parole giuste, esatte, contemporanee per dirlo. Maria Cristina, faccio una domanda, magari a cui è impossibile dare risposta, e non lo so, ma voi avete un archivio di tutti i cartigli che sono usciti? No, non di tutti i cartigli, anche perché i cartigli molto spesso, soprattutto le frasi dei classici, sono ripetute nel tempo, però abbiamo un archivio di cartigli e i primi cartigli, quelli del 22, addirittura sono numerati, quindi c'è addirittura abbinata una promozione. Occhio che il cartiglio non fu un'idea così incolpevole di Seneca, cioè Seneca non fece altro che portare alla luce quella che era la corrispondenza tra Buitoni e la Spagnoli, quindi è stata un po' una sua risposta ironica ad una consuetudine che vedeva ogni giorno. Questo lo ammette anche Buitoni nella biografia, dice sì, effettivamente l'idea del bacio non stava tanto nel cioccolatino quanto nel bigliettino con la frase d'amore. Luisa queste cose le faceva spesso. Quindi mentre parlavate di cinema ricordavo proprio come l'acqua per il cioccolato, cioè il cibo, il prodotto diventava veicolo di sentimento e quindi anche tra i due, perché chiaramente il bacio è un triplice contributo, tra i due quel cioccolatino con quelle frasi, con quelle emozioni in qualche maniera messe su carta era proprio il cioccolatino e il veicolo del loro amore. Ma esiste un'idea di quante frasi diverse sono state pubblicate in cent'anni? Non fino a questo punto, però in ogni epoca, più o meno, in ogni periodo anzi, oggi chiaramente non è più Seneca che studia le frasi, ma sono agenzie che ovviamente hanno la gestione di questa parte del patrimonio dei baci, però in ogni momento ci sono almeno 150 frasi diverse, aperte anche al contributo anche dei nostri consumatori, degli appassionati, nonché dei VIP, la serie Autografi d'amore, quindi è chiaro che il cartiglio fu questo menzo straordinario che recepesce e interpretare il cambiamento. C'è una frase che è nella top ten, che è la frase più ripetuta, più riproposta? Il famoso Sirano, quindi Rossano è la postroforosa messo tra le parole ti amo. E c'è anche un cartiglio che ci crea gli incidenti diplomatici con la Santa Sede, perché Seneca, essendo veramente un provocatore, inventava, scrive un giorno, meglio un bacio oggi che una gallina domani, firmato Seneca. Quando questo cartiglio arriva nella scatola di baci diretta alla Santa Sede, si interpreta quel Seneca il filosofo romano e quindi c'è un'invettiva della segreteria papale che chiede a Giovanni Buitoni chi fosse quel pazzo che avesse attribuito a Seneca il filosofo una frase tanto sconcertante. Per te c'è una frase, Marino, che più di tutte le altre rappresenta il bacio? Sì, forse è una frase di Shelley, che è quella che dice che l'anima incontra l'anima sulla bocca degli amanti, sulla bocca degli amanti. Perché ci dice tutto del bacio, ci dice che il bacio è un modo di darsi, ma è anche un modo di dirsi, è l'anima che i greci non a caso la chiamano come un vento, animos, è un soffio, quel soffio è il respiro. Allora se l'amore possiamo intenderlo come una grande persona, il suo respiro è proprio il bacio, attraverso quello. E quindi per questo è una frase che trovo davvero molto bella, perché probabilmente ci dice tutto in sintesi. Grazie. Adesso sentiamo un attimo solo, sentiamo l'ultimo estratto in cui ascoltiamo due persone, una che è un dipendente storico della Perugina, della linea Baci, che è Saverio Vescovi, e l'altro, Edoardo Felicioni, che lavora ancora oggi, lavora alle nocciole, giusto? E sentiamo loro, appunto questo dialogo, tra chi c'è ancora ed è più giovane e una memoria storica dell'azienda. Sì, io mi chiamo Saverio Vescovi, ho 62 anni e sono entrato in questa azienda nel 1978, però la conosco da molto prima perché ha lavorato qua sia mio nonno che mio padre. Ripeto, sono entrato nel 1978 e ho lavorato qui fino al 2018, facendo vari tipi di lavoro. Sono entrato come operaio alle spedizioni, poi ho lavorato all'incarto confezioni per qualche anno, un reparto in cui sono diventato capoturno e da lì sono passato al reparto Baci come caporeparto. Quello è stato il giorno forse più bello per me. Nel tempo Saverio si è occupato di tutti gli aspetti della produzione dei Baci. La reparto nocciole, dove si effettua la selezione, la scelta, la tostatura delle nocciole, fino ai segmenti della linea di produzione e al confezionamento. Si può dire che lui sia un po' una memoria storica degli ultimi decenni ed ha memoria, appunto, di tante diverse situazioni, anche di quelle più particolari, più eccentriche, come la visita di personaggi importanti in fabbrica, dai presidenti della Repubblica ai presidenti del Consiglio, a una leggenda del cinema, come Alberto Sordi, che immagino avrà fatto qualche battuta delle sue. Qualche battuta? È stato un continuo. È stato veramente simpatico. Poi si fece una specie di assemblea in mezza. Ho parlato lui, poi rispondeva alle domande delle persone. Sono anche le foto che avevo fatto. Ci sono, ci sono. Sono anche esposte nel bel museo storico della Perugina. Saverio ha il piglio del capo rigoroso. Ma voglio capire com'è stato lavorare con lui e lo chiedo non all'interessato, ma a un suo collega più giovane, Edoardo. Allora, Saverio era un capo molto attento, molto scrupoloso, a volte anche duro, ma lo faceva perché voleva che il lavoro andasse nel migliore dei modi nel senso del risultato finale. E poi rimane sempre quel rapporto di familiarità che unisce le persone, sia che sei operaio, sia con il capo reparto, che anche con il capo fabbrica, perché c'è un'interazione indissolubile fra tutti affinché questo prodotto venga alla luce nel migliore dei modi. Bene, qui mi viene da chiedere a Maria Cristina se ci racconta che cosa è il museo per chi non l'avesse visto, per chi non lo conoscesse. Sì, qui grazie ai loro contributi veramente avete aperto un po' accessi riflettori su quella che è l'umanità locale che è transitata per la fabbrica dei baci. E se riusciamo ad emozionare le persone che arrivando a Perugia scelgono di venire in Perugina, è proprio per questo elemento magico perché quella rimane e rimarrà per sempre la fabbrica dei baci in una storia che, ripeto, arriva all'attuale. Al museo, sì, si può conoscere ovviamente la storia del bacio, lo facciamo anche con tante immagini a supporto perché dietro al museo c'è un grande archivio storico di impresa, Buitoni Perugina, si vedono le tracce, ogni generazione io penso che veda il frame della sua vita collegato a quell'epoca storica del bacio, quindi avete visto i butubi, il momento in cui c'è la rivoluzione dei baci ma c'è un altro aspetto che è meraviglioso, da noi ogni giorno si possono vedere i baci in produzione, quindi credo che siamo l'unica azienda alimentare che con questa trasparenza ti fa veramente arrivare alla vita pulsante dei baci, cioè sono quelli, quindi quello è un momento delicato, meraviglioso, magico, in cui tutto quello che ci siamo detti, che abbiamo sognato, diventa realtà in cui si va ad unire sicuramente la magia, il know-how, la parte professionale, la parte dell'immaginazione e quindi si ricompone questo quadro di un cioccolatino incredibile che da cento anni suscita emozioni. Marino, esistono dei colori, secondo te, delle immagini, delle grafiche, per esempio nella copertina che abbiamo realizzato per questo podcast, come vedi ci sono i colori per esempio che tornano, che sono quelli del bacio, c'è l'oro e poi anche se qui non ci sono, se non nel logo, le stelle, però c'è un po', c'è l'argento, c'è il blu, secondo te esiste un colore del bacio, forse ne esiste più di uno, c'è il rosso sicuramente, rosso passione, quello di default, però anche il blu, perché il bacio certe volte significa che le due persone che si baciano, che siano amanti o no, trovano una specie di accordo musicale, una blue note, io direi che questi sono i due colori del bacio, almeno per me. In letteratura, nella letteratura contemporanea, c'è qualche cosa che tu pensi che abbia ben interpretato il racconto, il tema del bacio? Guarda, in letteratura contemporanea direi tanti, perché ormai i baci sono diventati una specie di palestra dell'amore, però io credo che tutti, almeno nella letteratura italiana, abbiano una fonte, che è il bacio di Paolo e Francesca, di Dante, celebriamo anche Dante, no? Perché nel quinto canto dell'inferno, quando Francesca dice che lui mi baciò, mi baciò, anzi baciò, con questa c molto più dolce, tutto tremante, e quel giorno poi, continua Dante, non vi leggemmo avanti, no? Che fa, ovviamente, rima con tremante. Ecco, io credo che quel bacio abbia ispirato tutta la letteratura, almeno italiana, sul bacio d'amore. È un bacio di tradimento, purtroppo, perché quello lo sappiamo, non è il bacio fra due marito e moglie, sono due cognati che in teoria non dovrebbero avere questo sentimento, ma stanno leggendo di un altro bacio di letteratura straordinario, che è quello scritto da Crétien de Troyes più o meno un secolo e mezzo prima, dove Lancillotto e Ginevra, altri due amanti che non dovrebbero, perché anche loro, non sono marito e moglie, però in realtà sono travolti dall'amore e l'amore passa proprio attraverso questo incontro di labbra. Io credo che quelli sono i grandi baci che hanno ispirato tutto quello che noi oggi vediamo. E oggi, però, c'è un'evoluzione, perché abbiamo addirittura dei baci immateriali, smaterializzati, come quelli, non so se vi ricordate quel film Hair, dove una persona si innamora dell'OS, cioè del computer, di un cervello, di un'intelligenza elettronica. E questa donna, Samantha, virtuale, ad un certo punto diventa la partner erotica di quest'uomo che, quando deve cominciare a sedurla, dice, beh, forse io adesso ti toccherei la pelle, ma la pelle lei chiede che cos'è, lui spiega che cos'è la pelle, che cos'è il tatto, e poi dice e ti bacerei. E quindi si passa dal bacio più materiale, tutto tremante di Paolo, a un bacio smaterializzato, ma tutto tremante di questo giovane uomo che si innamora di un'intelligenza artificiale. Quindi in realtà io credo, ecco, se posso aspirare a scrivere un cartiglio, mi piacerebbe tantissimo, lo confesso, direi che il bacio è il gesto più unisex dell'amore, perché si è veramente uguali in quel momento, non ha nessuna importanza chi si è, quanti anni si ha, è veramente il bacio più uguale, è il gesto più uguale, perché non c'è, c'è chi inizia, c'è chi finisce, ma noi non sappiamo, ci mescoliamo e in quel momento ci perdiamo piacevolmente. Marino? Sì, volevo solo aggiungere che il bacio che raccontava Elisabetta, quello di Her, quel film bellissimo di Spike Jonze, è di fatto la versione tecnologica contemporanea di un bacio famoso, quello di Galatea, di Pigmalione e Galatea, che è un bacio cioè che dà vita a ciò che non ha vita, Galatea è una statua e lui la ama talmente, se ne innamora e dopo averla baciata improvvisamente quella statua si anima, esattamente come l'intelligenza artificiale acquista un corpo e quando lui dice la parola ti bacerei, lei dice, il cervello artificiale dice che cosa mi stai facendo, improvvisamente avverte di essere viva e proprio forse questo è il tema del bacio, è l'amore che trasforma, per questo il bacio anche nella fiabba trasforma sempre, i ranocchi ridiventano principi, le principesse si svegliano con buona pace, di chi adesso dice che i principi sono degli stalker perché non hanno chiesto il permesso alle principesse prima di baciarle. lascerei, andiamo in conclusione, chiederei a Paolo se ci fa una lettura di un ultimo estratto ed è accompagnato da un sottofondo musicale a cura di Andrea Girelli. Grazie Andrea. L'incontro con l'altro ci trasforma, nessun incontro è uguale all'altro, nessun bacio è uguale a un altro, bacio sulla guancia, bacia a mano, bacio appassionato, bacini, bacetti. Il gesto più semplice è anche il più difficile, dice senza dire, ma poi delle parole abbiamo bisogno e amore è una parola facilissima e difficilissima. Verso metà ottocento il linguista Niccolò Tommaseo si era accanito nel suo famoso dizionario a cercare più sinonimi che poteva. Aveva trovato affetto, affezione, benevolenza, aveva trovato passione, dimestichezza, intrinsichezza, aveva trovato anche tenerezza, svisceratezza che per lui era l'ultimo grado dell'amore, quella dolce commozione delle viscere che proviamo all'appressarsi di persona sommamente a noi cara. Aveva trovato ardore, attaccamento, desiderio, brama, voglia, aveva trovato anche fiducia, anche speranza, venerazione, riverenza, ma forse non erano sinonimi, erano gli strati di una sola parola come quelli che separano una cipolla dal suo cuore. Quando studiavo storia sui banchi di scuola confesso che non l'ho capito subito. Pensavo che tutto si riducesse a una sequenza di dati, di frecce che da un evento portano all'altro cause, conseguenze, guerre, trattati di pace. Poi, con il tempo ho capito che c'è un'altra storia, quella che racconta la vita di ogni giorno, quella che illumina la storia delle persone, i loro sogni, le loro passioni, i loro desideri, le canzoni che hanno ascoltato, i film che hanno amato e anche ciò che decennio dopo decennio hanno assaporato, condiviso. Si può rifare la storia di un intero secolo scegliendo un dettaglio, quello giusto. Si possono ripercorrere cento anni di storia italiana attraverso un simbolo, cent'anni di baci. Tra uno spot e l'altro passano eventi, vicende pubbliche e private, cambia il paese, cambiano le generazioni. Si può arrivare all'altro ieri, all'oggi volendo, gli anni venti appena cominciati, difficili, ma pieni di speranze, o riavvolgere il nastro fin dall'inizio, quando negli anni venti del Novecento, ruggenti, ma tempestosi, nel cuore d'Italia, Perugia, Luisa Spagnoli ha una delle sue innumerevoli intuizioni. Fin da quel momento i cioccolatini chiamati baci si sono accompagnati alle parole e di tanto in tanto da un cassetto, da uno scaffale, spuntano alcune di quelle parole, insieme a fotografie, ritagli, piccoli oggetti che credevamo di avere dimenticato. In una grossa scatola verde ho ritrovato sei o sette cartigli speciali, conservati da chissà quanto tempo, baci ricevuti o magari condivisi con qualcuno in un giorno particolare, anche semplicemente parole, frasi che valeva la pena custodire. Sarebbe bello ora riuscire a rivedere questa o quella scena, riavvolgere il nastro degli anni e fermarsi lì, in quell'istante, davanti a quel gesto d'amicizia, di affetto, d'amore, ma il bello della memoria, come ci ha insegnato la grande letteratura, è che spesso si riattiva magicamente attraverso i sensi, l'olfatto e il gusto in particolare. Gustare qualcosa che ci piace può riportarci indietro nel tempo e questo fanno anche i baci, smuovono ricordi, interpretano sentimenti puri, uniscono le persone, comunicano l'amore e lo fanno da cento anni attraverso i periodi felici o bui della storia. Come? Prendendo in prestito parole, appunto, per donare un sorriso, un momento di dolcezza a chiunque e allora scarto uno di quei cartigli e vediamo cosa mi dice. Quei giuramenti, quei profumi, quei baci infiniti rinasceranno. È un verso di Baudelaire. Sembra dirci che questa storia lunga un secolo non si ferma, rinasce. Ogni giorno, baci su baci. Grazie. Complimenti Paolo, grazie, grazie di tutto. Ascoltate la serie e da oggi su tutte le piattaforme, baci su baci, quattro puntate. Grazie Maria Cristina, grazie Marino e grazie Elisabetta. Grazie a tutti voi e buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Grazie.